Signor Presidente e signori consiglieri, ho riflettuto molto sull'opportunità di intervenire oggi in quest'Aula, soprattutto per la preoccupazione di dare un'ulteriore cassa di risonanza a polemiche che ritengo sterili, inutili, strumentali, oltre che lesive della mia persona e del ruolo istituzionale che ho l'onore di ricoprire. Ma alla fine ho deciso di essere qui. Non solo per riaffermare la verità dei fatti, ma soprattutto per voltare pagina, per afformare con forza la volontà di andare oltre, affrontando un presente pieno di incognite, guardando alle sfide e alle opportunità del futuro.